Questa mattina siamo nella sede dell'associazione Io Sto Con Voi, l'Officina del Cuore. Io Sto Con Voi è un'associazione di volontariato senza fini di lucro che agisce attivamente sui temi della lotta al cancro, alla diffusione della cultura della prevenzione, benessere e stili di vita sani. Dal 2018 opera all'interno del Day Service Oncologico dell'ospedale di Vignola, svolgendo attività di volontariato con i pazienti sottoposti a chemioterapia. E in occasione dell'Ottobre Rosa, il parco dell'associazione si è riempito di ombrellini meravigliosi. E noi abbiamo colto l'occasione per fare il nostro saluto al sole e per far conoscere l'associazione, quindi andate su internet e cercate Io Sto Con Voi e date il vostro contributo. Si può farlo diventando volontari, acquistando i gadget, attraverso le donazioni private o aziendali, oppure partecipando agli eventi, alle conferenze, agli aperitivi e alle cene, che organizza l'associazione. E anche Io Sto Con Voi? C'è! Ciao!